Il vice sindaco con delega i servizi educativi del comune di Parma Nicoletta Paci fa il punto della situazione a seguito delle roventi polemiche sollevatesi da tempo ed esplose nelle ultime ore in merito alla riorganizzazione definita dall'ente per scuole per l'infanzia e asili nido della città. Purtroppo questo tipo di risposte sicuramente dispiacciono però devo dire che per quanto riguarda la sensibilità rispetto agli utenti anzi è stata mantenuta proprio perché riteniamo che sia molto importante questo settore ci rendiamo conto dell'importanza che ha non solo per le famiglie ma anche per tutti quelli che lavorano in questo comparto ed è questo il motivo per cui è stato mantenuto molto basso e difatti le cifre che abbiamo dato sono molto basse relativamente a quelle che sono le riorganizzazioni anche economiche di questo servizio e il voler dare importanza proprio a quello che è il settore di educazione per i bambini per noi è stato fondamentale. Ovviamente è chiaro che nel momento in cui ci sono delle riorganizzazioni poco o tanto ci sono delle persone che non sono contente e mi spiace ma effettivamente abbiamo cercato abbiamo fatto il nostro massimo per venire incontro alle famiglie venire incontro a quelle che erano comunque delle disorganizzazioni all'interno dei servizi e quindi abbiamo cercato di razionalizzare il tutto anche in virtù del fatto che sicuramente un pubblico deve cercare di razionalizzare i propri costi.